Viviamo nel Paese con la giustizia più inefficiente d'Europa, sia quella civile che quella penale, che quella amministrativa, è la più lenta, la più complicata, allontana gli investitori stranieri, mette in difficoltà le famiglie e le imprese. Abbiamo un sistema burocratico più cervellotico d'Europa con continui nuovi adempimenti certificati, il Sistri, il Duvri, in Italia è perfino difficile pagare le tasse, non si sa quando, quante e sono fin troppe. E quindi abbiamo un sistema complessivamente inefficiente, un Paese reale che sarebbe efficiente e produttivo, che si confronta con una burocrazia asfissiante, in gran parte dipendente dallo Stato centrale, dove c'è uno scontro reale tra quello che è il Paese, quindi il popolo e la democrazia, e la burocrazia del potere degli uffici. In Italia oggi uno dei confronti in atto è quello fra la burocrazia che vuole conservare e il popolo che con la democrazia vorrebbe cambiare.